Tutto è finito. E i giorni di Parigi. Dovendo parlare dell'amore, vorrei subito dire che se l'amore non ci fosse, probabilmente noi avremmo meno problemi, perché l'amore sconvolge. Sconvolge che cosa? Ma sconvolge la normale vita biologica. Se l'amore non ci fosse, saremmo raccoglitori, saremmo consumatori, a servizio della vita biologica, semplicemente. Avremmo la pulsione, questo sì, la libido, questo sì, l'estro, quelle cose che hanno gli animali, quelle pulsioni che hanno gli animali. Manderemmo avanti la specie, ma l'amore esiste e ci intenerisce e ci rende più deboli, a volte, anche più forti, a volte. Ed è un mistero, quindi è un grande problema. La presenza dell'amore è un grande problema, è ciò che rende instabile questo nostro mondo umano, nel bene e nel male. Io sono Vito Mancuso e sono un teologo laico e un filosofo. Dico teologo perché ho il dottorato in teologia sistematica, ho insegnato teologia a Milano, a Padova e ho scritto libri di teologia. Dico laico perché non ho nessuna missio canonica da parte della Chiesa. Sono un libero pensatore e direi che ho sviluppato un sistema, un pensiero diverso rispetto alla dottrina ufficiale. E poi filosofo perché mi sono occupato di Hegel, perché ho conseguito il dottorato proprio con un lavoro su Hegel e poi perché ho scritto di una serie di temi filosofici, quali il pensiero, la libertà, la giustizia, la bellezza e appunto l'amore. Il titolo che mi è stato affidato dalla direzione di Lucy è bello ed è L'amore è un'altra cosa. Sì, è un bel titolo, è intrigante perché uno l'ascolta e dice sì, è un'altra cosa ed è sfidato. Ed è subito, e subito pensa ma è un'altra cosa rispetto a cosa. Appunto, l'amore è un'altra cosa rispetto a cosa. Però vedete, non si può rispondere a questa domanda se prima, in un certo senso, non si sa già che cos'è l'amore. Perché se io non sapessi già intuitivamente almeno che cos'è l'amore non potrei poi capire che cos'è quella cosa rispetto a cui l'amore è altro. Quindi devo già saperlo, che cos'è l'amore. C'era un poeta inglese, Oden, che nel 1939 scrisse un verso diventato famosissimo La verità, vi prego, sull'amore, la verità. Basta pensare appena un po', guardarsi attorno anzi, anche guardarsi dentro per capire quanto il termine, il concetto di verità rispetto alla realtà, all'esperienza dell'amore sia spesso appunto distante. Quanta falsità che c'è sull'amore tant'è che sentiamo spesso il bisogno di dire l'amore è vero, no? Per distinguerlo da tutte quelle altre cose che usano il termine amore ma non lo sono. Appunto, l'amore è un'altra cosa. E però allora siamo in questo problema nel senso che da un lato lo sappiamo già perché altrimenti non potremmo distinguere quelle cose che sono diverse rispetto all'amore dall'altro però quando cerchiamo la verità sull'amore siamo confusi. Quindi? E quindi io mi ritrovo adesso mi ritrovo adesso un po' come Sant'Agostino sapete Sant'Agostino, confessioni, libro 11 lui parlava del tempo, non dell'amore ma ci sono dei grandi misteri nella vita umana il tempo, l'amore, la bellezza, la giustizia la verità l'ho già evocata l'anima, Dio la vita, la morte che sono inspiegabili che ci contengono che non riusciremo mai a capire nel senso di carpire no, capire, capire, capio, capere è sempre un possesso è sempre una conquista come dice il termine e queste cose in realtà ci conquistano noi non riusciremo mai a conquistarle quindi cosa diceva Agostino del Svempio? Comand diceva e beh, se nessuno me lo chiede lo so che cos'è il tempo se però devo spiegarlo a chi me lo chiede? non lo so ecco, io penso che questa sia la posizione un po' non lo so se proprio di tutti noi ma certamente la mia almeno in prima battuta no? che cos'è l'amore? eh, se nessuno me lo chiede lo so se però devo spiegarlo a chi me lo chiede? non lo so e però adesso devo spiegarlo a voi che cos'è l'amore? non so se riesco a cavarmela quindi torniamo al titolo no? torniamo al titolo l'amore è un'altra cosa rispetto a cosa l'amore è altro ma è rispetto all'odio per esempio certo è evidente chi ama non odia e chi odia non ama è chiaro no? poi è un'altra cosa rispetto all'indifferenza è certo che sì come si fa a dire che chi ama è indifferente anzi è proprio il contrario è uno sconvolgimento è proprio la negazione dell'indifferenza diventa estrema partecipazione l'amore e poi l'amore è un'altra cosa rispetto ma per esempio rispetto al gioco no? rispetto al gioco c'è un brano di Kant al riguardo che adesso vi leggo che dice così è tratto dall'antropologia dal punto di vista pragmatico dice così chi è veramente innamorato è imbarazzato maldestro poco attraente ma chi finge di esserlo se ha del talento può recitare la sua parte in modo così naturale da far cadere tra le sue braccia la poveretta che gli inganna e ciò perché il suo cuore è libero e la sua mente lucida quindi l'amore è quello vero che all'inizio si dice come si dice l'amore quando arriva ma lo sappiamo l'innamoramento è possibile definire l'innamoramento ma io lo definirei così è un'attrazione irresistibile che produce in chi la subisce un cambiamento di stato e quindi appunto l'innamoramento come un'onda arriva e rende maldestro e rende poco attraente come Kant riconosceva no? ecco quest'onda arriva e cambia cambia lo stato di chi la subisce e quindi non c'è gioco non si può dire che nell'amore ci sia gioco quindi l'amore non è gioco e già adesso stiamo capendo una cosa probabilmente cioè che l'amore è serio che c'è sempre una dimensione di serietà che mette in gioco profondamente se stesso quando si parla di amore vero ovviamente e non di quell'altra cosa rispetto a cui l'amore non è che in questo caso potremmo chiamare seduzione seduzione significa condurre a sé non lo dice il termine no? condurre a sé e quindi stiamo cominciando a capire un passo importante secondo me cioè che l'amore è un'altra cosa rispetto all'egoismo cioè a quella dimensione nella quale l'ego vuole trionfare nella quale l'ego vuole catturare nella quale l'ego vuole conquistare ecco questa dimensione di potere di possesso a volte persino di rapina è un'altra cosa rispetto all'amore l'amore è un'altra cosa rispetto a questo rispetto all'egoismo e a tutti i suoi calcoli che si dicono come narcisismo inganno appunto come possesso anche come sesso nella misura in cui è solo sesso ovviamente l'amore è un'altra cosa rispetto all'egoismo quindi se quindi l'amore è un'altra cosa rispetto all'egoismo possiamo definirlo altruismo io penso di no io penso di no l'altruismo è la carità è l'amore universale inteso come amore universale come amore verso tutti la filantropia ciò che il greco antico chiamava agape ciò che il latino chiamava caritas e a questo riguardo che cosa occorre dire beh occorre dire che in questo tipo di amore non sono in gioco tutte le componenti di un essere umano e quindi io non penso che per questo tipo di carità ecco si possa effettivamente parlare di amore cioè noi non quando esercitiamo la benevolenza verso tutti quando esercitiamo la carità non siamo al cospetto di quella potenza effettiva totale integrale a cui diamo il nome di amore che appunto sperimentiamo in queste in queste occasioni l'essere umano vedete a mio avviso è corpo è psiche ed è spirito e perché si possa propriamente parlare di amore tutte queste tre componenti che ci costituiscono le parti vere costitutive di ciascuno di noi devono essere in gioco devono essere rapite devono essere sconvolte devono essere riavvolte in un nuovo sistema devono essere oggetto di una perturbazione e poi di una trasformazione solamente a queste condizioni si può parlare propriamente di amore e nell'amore cosiddetto universale nella carità il corpo non è in gioco ovviamente dico da un punto di vista è chiaro che si fa la carità anche corporalmente quindi aiutando abbracciando è chiaro che il corpo è sempre in gioco in ogni nostra dimensione ma non è in gioco dal punto nel senso che viene rapito no nel senso che si mette totalmente nell'esperienza dell'amore no ma neanche la psiche neanche la psiche è in gioco nell'amore universale che cosa intendo dire intendo dire che psichicamente noi quante persone veramente possiamo amare intendo dire quante persone sono decisive per la nostra psiche cioè per la nostra interiorità al punto da pensare che se non ci fossero una parte importante di noi morirebbe quante sono le persone di cui siamo psichicamente innamorati le possiamo contare sulle dita di due mani forse una mano sola ma ciascuno naturalmente deve rispondere per sé ma io sono convinto che abbiamo tanti conoscenti abbiamo pochi veri amici e le persone che veramente amiamo sono ancora meno ed è per questo che l'amore è un'esperienza altra appunto è un'altra cosa anche rispetto all'amore universale anche rispetto a quella benevolenza a quella generosità che è un atteggiamento bellissimo bellissimo che dovremmo tutti coltivare per quanto è possibile ma che non è quell'esperienza decisiva e radicale a cui noi ci rivolgiamo dicendo amore e quindi se non è se non è egoismo e se non è altruismo che cos'è l'amore io penso vedete che l'amore è una forza cosmica è una potenza ben prima di essere un sentimento certo l'amore è un sentimento ma come dice la parola sentimento è qualcosa si sente no? è sentimento perché sente allora ci deve essere qualcosa che viene sentito prima del sentimento il sentimento c'è naturale è potente sconvolgente ma c'è perché c'è qualcosa che lo mette in moto c'è qualcosa rispetto a cui il sentimento sente e che cos'è questo qualcosa? è una forza è una potenza è il mistero è il grande è il grande mistero di attrazione di aggregazione che attraversa il nostro mondo vedete riuscite a pensare un solo fenomeno fisico che non sia un sistema? cioè intendo dire che non sia il risultato di una aggregazione che non sia per riprendere la terminologia amorosa un amplesso? no non riuscite perché non esiste perché l'aria che in questo momento noi respiriamo l'aria è un sistema azoto 78% ossigeno 21% argon 0% e qualcosa per cento e l'ossigeno e l'azoto e l'idrogeno e tutti gli altri atomi sono a loro volta sistemi non sono atomi alfa privativo temno indivisibili sono divisibili li dividiamo e quindi e quindi appunto sono risultato di aggregazione il nostro corpo è risultato di aggregazione le nostre particelle subatomiche si relazionano e formano i nostri atomi i nostri atomi formano relazionandosi le molecole e poi da qui organelli e poi cellule e poi tessuti organi sistemi di organi l'organismo tutto è aggregazione e come la chiamate? come si può chiamare questa forza che agisce nell'universo sapete? non solo nel nostro corpo anche nella stella là in alto o là in basso e come si chiama questa forza che aggrega? non lo so fisicamente parlando quando noi la sperimentiamo dentro di noi quando noi sperimentiamo questa questa forza aggregante e aggregativa quando la sperimentiamo a livello del corpo quando la sperimentiamo a livello della psiche quando la sperimentiamo a livello degli idee dello spirito della dimensione ideale di noi stessi questa forza si chiama amore la chiamiamo amore e ciò che ottiene è un grandissimo desiderio appunto di aggregazione di unità e avviene qualcosa di incredibile cioè che cosa avviene? beh avviene che la nostra essenza più vera che è la libertà che il desiderio di indipendenza il desiderio di autonomia il desiderio di dire la nostra di essere noi insomma il desiderio di essere se stessi di non essere i seguaci di nessuno ebbene questo desiderio così nobile è così produttivo all'interno della storia della politica dell'economia viene meno la libertà viene meno la libertà si consegna la libertà sente che se non trovasse il sì dall'altra parte rispetto a cui è attratta sarebbe la più profonda mortificazione nel senso proprio etimologico di qualcosa che porta a morte questo è la suprema dialettica l'amore fa sì che la libertà che è indipendenza che è autonomia si trasformi quasi nel contrario diventi dipendenza c'è sempre un sentimento di profonda dipendenza se non c'è questo sentimento di dipendenza non c'è l'amore certo c'è l'indipendenza e quindi e quindi l'attrazione l'avventura la seduzione tutte quelle cose che abbiamo visto prima che fanno parte dell'egoismo e per certi aspetti anche dell'altruismo ma non c'è l'amore l'amore è anche debolezza tenerezza e genera dipendenza sono molteplici gli oggetti che possono creare questa dipendenza strutturale nell'esperienza dell'amore il primo che viene in mente è chiaro è come chiamarlo diciamo il partner ecco così rimane volutamente indefinito insomma la persona la persona l'essere umano rispetto a cui sentiamo attrazione è desiderio di unione è desiderio di condivisione totale certo il partner i figli quanta dipendenza c'è rispetto ai figli per chi li ha sia deboli sia impotenti spesso di fronte ai figli i figli i nipoti i genitori insomma le persone che sono attorno a noi e quindi un primo tipo di oggetto di amore riguarda proprio le persone e direi che è lì che specificamente si dà l'esperienza dell'amore però si può parlare di amore anche per realtà impersonali si può avere amore per l'arte si può avere amore per la bellezza si può avere amore per la natura si può avere amore per i viaggi cioè si può impostare l'esistenza proprio così si può impostare la propria esistenza la propria vita a partire da questi oggetti di amore ci sono persone che vivono per l'arte per la musica per la ricerca per la scienza per la creatività per la letteratura per il viaggiare l'ho già detto e sono oggetti di amore che riempiono un'esistenza e creano appunto dipendenza non si può fare a meno di queste esperienze per chi le vive con questa intensità e poi ancora c'è l'amore per gli animali chi ha un cane chi ha un gatto un cavallo lo sa benissimo che cosa significa che tipo di amore si può sviluppare l'amore per la natura per le piante e naturalmente l'amore per Dio per chi vive anche questa dimensione mistica sentire una presenza misteriosa e al contempo dolce ecco dentro 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 di sé l'amore per la vita insomma sono tante le forme è l'amore per sé ma questo lo stavo dimenticando ma è molto importante l'amore per se stessi che bisogna naturalmente distinguere dall'egoismo che è la volontà di sottomettere tutto il mondo a se stesso questa è un'altra cosa l'amore per sé quando è sano significa cura della propria persona cura del proprio corpo cura della propria psiche che viene nutrita di di cose buone così come tentiamo di nutrire il nostro corpo di cose buone nello stesso modo che la nostra psiche e il nostro spirito devono essere nutrite di cose buone tutto questo procede dall'amore per sé che è sempre qualcosa di sano di consapevole di bello di prezioso bisogna amare se stessi anche il Vangelo lo dice dice ama il prossimo tuo come te stesso ecco se non c'è un sano amore per sé non ci può essere neanche un sano amore per il prossimo ma adesso vi leggo delle parole bellissime che Hegel quando era giovane scrisse per sé stesso nei suoi appunti che adesso sono chiamati scritti teologici giovanili che non pubblicò mai una specie di suo laboratorio appunto quando era giovane per cercare se stesso per formare il proprio pensiero ebbene all'interno di questi appunti che vennero poi scoperti dopo e pubblicati all'inizio del novecento nel 1907 all'interno di questi appunti si leggono queste queste parole solo nell'amore si è uno con l'oggetto né lo si domina né se ne è dominati l'amore può aver luogo solo nel porsi davanti a un nostro uguale dinanzi allo specchio e dinanzi all'eco della nostra essenza fine della citazione perché ho letto queste parole bellissime ma perché prima ho parlato di dipendenza e questo della dipendenza è uno stadio iniziale dell'amore che potremmo chiamare innamoramento appunto l'attrazione irresistibile che provoca in chi la subisce un cambiamento di stato caotico ma poi ma poi l'amore matura non è più innamoramento diventa appunto amore maturo e allora e allora entrano in gioco le parole che vi ho letto di Hegel che nell'amore vero non si domina né si è dominati perché ma perché si è di fronte al proprio uguale all'eco della propria essenza e che cosa avviene avviene appunto un cambiamento di stato o meglio il cambiamento di stato è arrivato al momento dell'innamoramento nell'innamoro nell'amore maturo si ha la solidificazione la sistematizzazione di questo cambiamento di stato che da caotico diventa logos diventa quello che che diventa un atomo di idrogeno che si unisce in questo caso due atomi di idrogeno che si unisce a un atomo di ossigeno che formano la molecola dell'acqua nell'amore maturo non hai atomo più atomo nell'amore maturo hai una molecola una molecola spirituale la coppia non è atomo più atomo la coppia è una molecola spirituale è un'unità pur essendo originariamente una dualità ecco questo miracolo questa simbiosi questa alchimia incredibile che è l'amore maturo è che talora avviene sapete talora avviene e se avviene e se lo si custodisce è la cosa più preziosa che c'è è l'esperienza più preziosa che c'è per un essere umano e si sperimenta davvero un cambiamento di stato la vita assume un altro sapore non il sapore falso delle favole naturalmente ma il sapore più profondo di una realtà appunto più profonda che l'amore vero ti consegna quindi quindi concludo dicendo e riprendendo il titolo che l'amore è un'altra cosa certo sì ma l'amore è una tale potenza che rende anche chi lo sperimenta e chi lo vive un'altra cosa diventiamo un'altra cosa al cospetto dell'amore vero lucy in